Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Anche oggi Serie B, un campionato eccezionale, questo turno infrasettimanale già ieri ci ha regalato una partita molto bella come Venezia Reggiana, oggi ho seguito l'anticipo delle 17, ovvero la sfida tra il Frosinone e il Monza, una sfida di grande prestigio tra due delle squadre favorite per la promozione, il Frosinone in un momento di grande difficoltà, visto che sono 13 partite che non vince ed è riduce dalla scopola clamorosa di Cremona del scorso weekend, il Monza invece secondo in classifica prima di questa giornata, ebbene ne è uscita una partita eccezionale. Anche oggi il voto è 8, un incontro veramente bello, divertente, emozionante, pieno di occasioni, pieno di belle giocate, tatticamente interessante, sono veramente contento di aver assistito a questo incontro. Verdetto alla fine, punteggio finale di due pari, sono convinto che il risultato sia sostanzialmente giusto, come si diceva una volta, i punti, la vittoria però direi che è il Frosinone che ha giocato molto bene, ha giocato una partita veramente gagliarda, ha messo molto in difficoltà la retroguardia monzese, ha finito meglio della squadra brianzola e ha costruito più occasioni da rete. Partita come possesso di palla 50-50, il Monza è primo in classifica per possesso di palla, oggi ha fatto fatica un po' con il suo giro palla, imporre un po' il ritmo del suo gioco. Il Frosinone infatti in entrambe i tempi è partito molto forte, è partito molto veloce, per di più nel secondo tempo ha anche concluso molto bene, ha avuto delle occasioni fino alla fine per segnare il gol della vittoria. Io non sono grande tifoso onestamente della guida tecnica di Alessandro Nesta, però devo dire che è messa anche a rischio dopo gli ultimi risultati negativi, però devo dire che oggi la formazione ha saputo rispondere molto bene, probabilmente i giocatori credono ancora in questo progetto per quanto possa essere un progetto valido o meno. Il Frosinone ha avuto anche tanti problemi con il Covid, tanti infortuni, è una squadra che ha dovuto soffrire molto nell'ultimo periodo di campionato, però sicuramente è una squadra che fa bene e potrà fare ancora meglio, vedremo se poi avrò ragione io sul discorso di Nesta o seppure riuscirà lui a fare qualcosa di molto buono. Per il Monza invece direi da un certo punto di vista, sul punto di vista del gioco, rispetto alle ultime prestazioni che non mi avevano soddisfatto più di tanto, rispiaciuti, non mi erano piaciute più di tanto, pur essendo arrivati dei risultati, oggi il Monza non mi è dispiaciuto, ha giocato comunque un calcio molto più veloce, ha messo in difficoltà dal retroguardo del Frosinone, non mi è dispiaciuto per questo, però sicuramente è una squadra che subisce pochi gol e oggi ne ha subiti due. Come dinamica delle reti, vantaggio del Frosinone, 1-0, gran palla di Maiello, Iemmello supera Paletta e realizza un ottimo gol dell'1-0, brutta figura per Paletta che viene superato molto facilmente da Iemmello, due minuti dopo, bravissimo Paletta che va a dirà su un'azione di calcio d'angolo, prima un'occasione di Dio, parata della difesa da Bardi, poi si crea un calcio d'angolo su cui Paletta è molto bravo in una seconda ribattuta a realizzare subito il gol del Parigi. Monza che trova il gol del vantaggio in chiusura di tempo, una splendida azione di Scozzarella, un lancio lungo, un controllo meraviglioso di Gittier che realizza superando la difesa del Frosinone e Bardi un po' incerto in questo caso nell'uscita, eccellente la ripresa del Frosinone che subito nei primi minuti trova il gol del 2 pari con una splendida azione, cross di Vitale da una fascia e tiro al volo di Salvi dall'altra parte che realizza il gol del 2 pari. Poi diverse occasioni, il Monza ha qualche opportunità ancora con Dio, soprattutto una molto importante parata da Bardi, un altro colpo di testa di Maric ben parato sempre da Bardi, però sono diverse anche le occasioni del Frosinone con Ciano piuttosto che nel finale ancora Novakoi c'è una bella giocata e c'è un'opportunità anche negli ultimissimi secondi con una deviazione di Paletta un po' con il braccio in una situazione anche molto al limite. Alla fine punteggio di parità, credo un risultato giusto, sicuramente una bella partita e io credo che due squadre che possono veramente fare bene ancora da qua alla fine del campionato. Io vi dico sempre ragazzi seguite questa Serie B che è un campionato veramente veramente meritevole. Alla fine migliori in campo per il Frosinone scelgo, direi mi sono piaciuti diversi giocatori, però alla fine io scelgo comunque Iemello che a mio avviso è giocato molto bene, non l'avrei sostituito per quanto sia arrivato da poco. Nelle gerarchie magari dovrà scalare delle posizioni, però stava giocando molto bene, non l'avrei tolto, secondo me il Frosinone ha perso un'occasione per rimanere ancora più pericoloso fino alla fine. Nel mozzo invece scelgo Scozzarella che ha giocato un'ottima partita a centrocampo e a mio avviso è stato il migliore in campo. Arbitro della partita abbiamo avuto Di Martino, un eccellente arbitro, per lui il voto stasera è 7. Mi è piaciuto molto come ha guidato la partita, Di Martino è un arbitro che ha già 6 presenze in Serie A, credo che meriti anche più presenze in Serie A perché è un arbitro diciamo un piccolo doveri come modo di stare in campo sia come look, come atteggiamenti. Mi ricorda molto l'eccellente arbitro romano, un ottimo arbitro, ha fischiato bene, 35 falli, 7 gialli, ha risolto anche qualche situazione di polemica tra i giocatori e ha usato un buon metro sui calci di rigore. Ci sono due calci di rigore lamentati, uno dal Monza per una spinta ai danni di Dio, c'era la spinta ma secondo me leggera, non abbastanza per farsi dare un calcio di rigore, c'era un fallo di mano nel finale di paletta però la palla ha picchiato sul suo braccio che era relativamente vicino al corpo, il contatto era da molto vicino, credo che in entrambe le occasioni di Martino abbia fatto bene a lasciar proseguire. Per lui il voto è 7, arbitro veramente molto bravo, mi è piaciuto, complimenti a lui. Telecronaca avevamo la coppia composta da Riccardo Mancini e Dario Marcolin, allora il voto per loro comunque 7 perché la telecronaca molto ricca, molto dettagliata, molto particolareggiata. Attenzione, un po' troppo simile magari in certi aspetti a un Trevisani Adani, ragazzi speriamo che stiate sempre lontani da certe derive molto pericolose, però una telecronaca sicuramente valida e sicuramente appassionata. Grande serata, quindi bella partita ragazzi, Serie B veramente da seguire. Io vi ringrazio, ci sentiamo più tardi con un nuovo argomento, una cosa nuova per questa settimana e ci sentiamo poi prossimamente per le nostre solite analisi sui campionati vari. Vi ringrazio ancora, iscrivetevi al canale, like se vi piacciono i video e campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti. Grazie a tutti ragazzi, buona serata.